musica, news, sport every day for you on the web lecochannel.it, the blue light, blue radio nel medesimo girone della calcio d'acqua intanto Bertani prova a puntare zona centrale 20 metri calcio deviato attenzione Ghidinelli, ottima posizione palo di Ghidinelli palla risputata a ben 25 metri di distanza prima, occasionissimo per il leco che arriva al terzo minuto lasciano sicuramente tre punti per stare, oggi turno di riposo per loro sale intanto Virtus Bergamo da sinistra, c'è una deviazione così così di Germani per Plumbai che la tiene, la gioca indietro, palla sporcata ma che finisce sempre nei piedi di Virtus Bergamo Gomin avanti, Gomin prova il calcio ben lontano dalla porta di Navag messa laterale, compagnone al debutto dal primo minuto, numero 26 compagnone, gioca una palla centrale buona per Bignotti che se ne va con eleganza se ne va a due, palla sulla destra, Luoni, il cross dentro, secondo palo Cristofoli, un metro poco più sopra la traversa Ivan, quindi palla recuperata dalla Virtus Bergamo Ivan Merlissala va ottimamente su Germani si intromette tra il piede e la palla dell'attaccante di casa va a conquistare la palla, Bignotti, palla in verticale Cristofoli, 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 Cristofoli miracolo di Cavalieri, una parata incredibile 20 metri, zona centrale, folta barriera, tutti in barriera messi da Cavalieri che potrebbe non vedere partire il pallone parte Cavalli, il mancino deviato in maniera pericolosa c'è calcio d'angolo per il Lecco Sturito fino a qui, Bignotti batte però basso cerca la deviazione di Bertani, anticipato nettamente da Riva Ghidinelli dall'altra parte del campo, fatto fuori da Germani che punta uno contro uno, attenzione Plumbai è solo davanti a Nava, Plumbai, Plumbai cosa sbaglia Plumbai ragazzi? di zona offensiva, compagnone perde una brutta palla prova a ripartire Gomis, steso da dietro al compagnone che va a prendersi, cartellino rosso come cartellino rosso? attenzione questa espulsione non può esistere in nessuna maniera è stato un fallo sicuramente tattico sguardo e con voce molto calma Cristofoli che non è esattamente persona conosciuta per la sua diplomazia palla lunga su Germani, siamo fuori dall'aria Germani, cross raso, terra Plumbai, la ciccata palla per Mister che in scivolata forse viene toccata da dietro per Luone a un metro dalla porta comunque come sempre è stato molto puntuale nelle sue discese offensive servito spesso e volentieri da Cavalli che ha sempre un occhio di riguardo per la fascia da lui difesa e attenzione a Germani fascia da parte Germani conclusione incredibile di Caliax, giocatore del Caravaggio che va a mettere in fallo laterale prova a ripartire l'eco scambio stretto Bertani, Bignotti, Bignotti entra in area Bignotti, Bignotti va giù no, ottima la chiusura di Mister che è andato a perter via il pallone a Bignotti comunque già servito Bertani è dentro l'area, zona di destra Bertani trova solo il calcio d'angolo potenziale occasionissima quella costruita da Bertani e da Bignotti che oggi sì, finalmente sta dando ottima prova di abilità schierato in posizione quasi di trequartista comunque interno molto alto nella zona sinistra del campo anzi, in questo momento gioca su tutta la fascia attenzione a Cristofoli di testa fuori di poco Cristofoli non sembra essere almeno anche Cristofoli palla recuperata però dalla Virtus Bergamo che può distendersi Virtus Bergamo che riparte sinistra, attenzione uno contro uno Plumbay la gol della Virtus Bergamo questo sì erroraccio di Nava forse c'è stata deviazione di Marisola lette di Ersid Plumbay diverse Plumbay ancora dentro l'area servito si gira serve Gomis che non trova l'aggancio Mister calcia lontanissimo con buona costanza ma sicuramente di molto difficile anche perché è presumibile che in questo momento i padri in casa troveranno qualcosa di diverso attenzione Bertani 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 entra in area Spinale un intervento che va lungo il Viel ma tante occasioni sfumate Cavalli batte l'angolo dentro per Cristofoli 20 centimetri in totale solitudine invece è andato a colpire col piede Mancino con imprecisione è andato a concedere un calcio d'angolo all'Ecco che batte ora con Bignotti buona palla dentro Merli Sala impreciso si è staccato bene Merli Sala ma vediamo l'arbitro chiama ancora la barriera lontana 7 metri e mezzo Bertani calcia e non trova però la porta palla che scavalca la barriera Steaua a Bucharest Champions League Europa League Bartemureno dalla bandierina Cristofoli in coca Bergamasca che si presentava a questo incontro con un punto in prima classifica rispetto ai Brucellesi 6 contro i 5 conquistati dall'Ecco palla giocata negli ultimi 20 metri Plumbai zona di destra Plumbai parata ottima di Nava sulla stilisticamente perfetta conclusione di Plumbai Cavalli sulla linea di calcio del pallone vicino a lui anche Janos Zeccheli Zeccheli ammonito anche il giocatore rumeno che oggi debutta con la maglia blu ceste sembra voler andare lui Zeccheli rivedibile sicuramente molto rivedibile per la gioia dei tifosi locali la conclusione portata dal rumeno nel frattempo c'è un attenzione potrebbe esserci qualcosa di un cartellino per Fabio Cristofoli attenzione vedo già che esce rosso rosso per Cristofoli rosso per Cristofoli forse per il piglio recapitato direttamente sul volto di Maregalli richiamato all'ordine da Cubicciotti signor Catallo music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blu radio